Start, 2, 1, boosted ignition and lift off! Ma, e non l'ho mai finito, ma il 2 adesso c'è la possibilità di provarlo già in versione pre-accesso anticipato che uscirà e lo danno come imminente. Al momento c'è solo la prima zona di gioco, è una versione appunto ridotta e vari aspetti del gioco sono incompleti. Quindi questa è ufficialmente una prova tecnica. Lo proviamo all together now e vediamo com'è. Lo gioco col pad ovviamente perché sono un po' contro il pad ma su questi giochi si presta bene. E' già tradotto in italiano mentre ricordiamo che Hades 1 non era in italiano all'inizio. C'era Hade che doveva lasciare il regno degli inferi nonostante suo padre non volesse. Quindi lo proviamo insieme, non credo che andrà a stravolgere quello che era il primo gioco, però mai dire mai. Lo stile grafico è sempre stupendo, bellissimo da vedere. Morte a carono. Ok, abbiamo un movimento con il pad. Che dire. Ok, procedi RB. Ok. Perché fatto a zone abbiamo... Vediamo... Ah, questo ok. Non mi sta spiegando nulla il gioco. Infatti ho lanciato quest'area con la B e con la X colpisco. Colpisco anche relativamente a distanza. Questo che cos'è? Per chi non lo conoscesse, Hades è un gioco, lo definiamo roguelike, nel senso che la morte è sicuramente contemplata. Ed è un gioco dove noi procediamo sbloccando ad ogni run delle caratteristiche diverse, accumulando però dei crediti che ci consentono nelle run successive di ottenere dei perk piuttosto che dell'equipaggiamento che però è permanente. E se voglio dire cosa fa questo... C'è anche... E lui accetta. Vedete che qua ne abbiamo preso uno. Un incantesimo e solo un altro incantesimo. Otto parole. Il nome di Ade. Olimpo. Accetto questo messaggio. Apollo, dio della luce. Saluti dall'Olimpo. È ben trovata, raggio di sole. Ascolta, noi non possiamo arrivare al titano, ma se ti sei messo in testa di farlo, il minimo che possa fare è illuminarti la discesa. Quindi... Ah, possiamo sceglierne uno, come vi dicevo. Quindi la corsa è rapida, bagli i nemici, tuoi attacchi infilgono più danni in un'area maggiore, sorgente luminosa. No, facciamo questo. Ok. Facciamo più danno ora. Dicevo, c'è questo che praticamente mi consente ed è comodissimo farlo con il pad. Perché col mouse credo che sia... Oddio, potrebbe essere... Eh, vedete, sì. No, dà molta più precisione. Mi spiace dirlo perché io sono un fan del mouse e tastiera, ma... Ok, qua si va avanti e si va nella nuova zona. Vediamo se c'è... No. Ah, qua diventa tosta però. Ok. E questo? Ma consumo del mana tipo per lanciare questo. Ok. Ok. Non so se poi effettivamente ci sia modo di eliminare questo respawn di questi nemici, ma per il momento continuiamo a eliminarli. Sicuramente qui molti di voi avranno già abbandonato il video. Altri appassionati saranno qui ancora perché hanno adorato il primo e me lo scriveranno nei commenti. Lo apprezzo sempre. Eh, allora... Si va di qua? No? È perché vedete che abbiamo finito la zona. Quindi tecnicamente dovrebbe essersi aperta la nuova zona. Vedete che ci sono due zone dove poter procedere. Destra o sinistra? Io ne provo una. Mi scuoti il premio. E dov'è il premio? Qui? Mi scuoti il premio? Eh. Perché abbiamo finito questa stanza. Ma io il premio non lo vedo. Ah, è questo. Che pirla. Ottieni più 5. Vedete che abbiamo guadagnato per l'inventario delle cose. Premi così per l'inventario. Ok. Abbiamo questo che per lo più usato è per sbloccare nuovi arcani. Premio comune. Termini incontri nell'erbo e oltre. Ok. Ecco, vedete che ci sono tutti i colloqui recenti. Ok. Quindi questo qui è il menu. Abbiamo, premendo invece la freccia verso sinistra. Ok. Un'info sull'ambientazione. E le altre due direzioni no. Posso andare in due direzioni. Vedete, c'è questo verde e quello. Facciamo questo. Vediamo dove si va. Perché si può scegliere la zona successiva. Ovviamente non mi chiedo neanche se siano meno offensivi. Perché lo so già. È una peculiarità di questo gioco. Potremmo fare così. Non si mette molto bene per noi. Che poi fondamentalmente la base è quella comunque lanciata la prima volta da The Binding of Isaac. Cioè le stanze dove eliminiamo i nemici. In questo caso vedete che abbiamo preso questo. E quindi noi andremo a scegliere le nuove zone in base alla risorsa che ci darà la vittoria nell'arena. In questo caso, vabbè, non abbiamo moltissima vita. Non siamo messi benissimo. Qua c'è questo simbolo del tempo. Vediamo che cosa succede qui. Io speravo in una zona di riposo vedendo la clessida ma in realtà no. Abbiamo infranto la sua protezione gialla. Però per il momento finché restano così lontani mi sta bene. Eh, non è finita. Non è finita, no. Sì, che faccio più danno si sente. Ottieni moneta d'oro. Questi sono i dobloni. Ok. Abbiamo ottenuto quello. Ora abbiamo queste due cose. La fiamma. Che sembra un potenziamento. O questo. Non so cosa siano. Sono molto indeciso ma opto per questo. Spero non sia un boss perché con 4 di vita io sono praticamente finito. No, abbiamo un mercante. Allora, il mercante conversa. È un nocchiero stigio. Caronte, giustamente. Stavo pensando proprio a Caronte. Ti sono debitrice, nobile Caronte. Queste provviste faranno senza dubbio la differenza nella mia missione. Ti darò tutto l'oro che riuscirò a trovare. Ok, abbiamo 173. Questo mi dà. Acquisto queste risorse. Acquisto il potenziamento. O acquisto questo che non so cosa sia. Quanto mi costa? 150. O 100. Aspetta che non lo so. Però mi ispira questo. Per fortuna che il nocchiero degli inferi è ancora in affari, malgrado i nostri guai. Confido che i suoi prezzi siano migliorati, se non altro. O peggiorati, forse. Allora, posso scegliere uno di questi. Talento abbagliante. I tuoi attacchi possono abbagliare i nemici. Ma se io rinuncio non posso. Resta nei tuoi incanti per rigenerare gradualmente. Ok, probabilità colpo doppio. Questo non so cosa sia. È un potenziamento. Quello, vabbè, mi sa che ho buttato via. Comunque, possiamo prendere o questa o quell'altra risorsa. Io opto per questa. Ma sicuramente finirà malissimo. Perché, come ho detto, con la vita che ho attualmente... Però me la gioco abbastanza sul chi vive. Sperando di... Non ho ancora capito cosa fa questa zona qua, che io posso spawnare. Però, per intanto, si sopravvive. La reattività è assolutamente buona. E farà... Questo gioco sarà la morte della Steam Deck. Ok, prendo quello che devo prendere. Perfetto. Ora abbiamo questo e questo. Allora, qua, vita di la mana. Io punto alla vita. Sperando che sia qualcosa che mi dia subito qualcosa. No, assolutamente no. Ovviamente. Fortunatamente non ci sono ondate. Non... Attaccano tutti abbastanza a distanza. Quindi... Forse riesco anche a tenermi lontano dal pericolo. Di... Di... Eh, arrivano ancora. Sono saltato via giusto per grazia divina, perché... Eh, questi qui adesso attaccano. Non scherzano. La mia vita è finita. Però questi sono forti, eh. Però... Messo un po' alle strette... Me la cavo, dai. Ce l'abbiamo fatta. Ottieni più 25. Abbiamo ottenuto più 25 di vita. Sul totale, credo. Quindi abbiamo recuperato un po' di vita. C'è uno e l'altro. Dovrei vedere le mie risorse. 10 e 10. Praticamente, affinità, attivare più arcani per sbloccare i nuovi arcani. Attivare più arcani o... Non so. Facciamo questo, dai. Andiamo avanti. Per il momento... Nulla di difficile. Ovviamente, come succedeva nell'1, il gioco sarà... Un'escalation dove moriremo comunque sbloccando magari nuovi potenziamenti che ci consentiranno di accedere a nuove zone del... Oh, pensavo fosse un oggetto. A nuove zone del mondo. Andare sempre più avanti. Sbloccare nuove meccaniche e nuovi mercanti. E alla fine arrivare a scalfire le fasi finali del gioco per poi battere il boss e fuggire dall'Ade. Questa era più o meno la meccanica del primo. Poi, ovviamente, io non ho mai sentito parlare male di Ades, AIDS 1, da comunque quelli che sono gli appassionati di questo genere. Questi sono soldi, comunque. E di là c'è il mana. Prendiamo il mana stavolta. Poi, graficamente, è bellissimo. Niente da dire. Assolutamente niente da dire. Mi hanno suonato come una zamponia. Però, la precisione che c'è con il pad è impagabile. Me ne rendo conto. Uno è andato. E sono morto. O morta. Non si ferma il tempo. Molto interessante. Non so quanto durerà questa technical test. Le potete richiedere, adesso non so quando vedete il video, su Steam. È un accesso che andava a ondate, quindi ne ho fatto richiesta e è arrivato. Ma lo possono richiedere tutti. Però si parla di Early Access, quindi imminente. Quindi arriverà, ovviamente, e verrà aggiunto. Come ho detto già anche per No Rest for the Wicked, non penso resterà degli anni in Early Access. Mi sembra già piuttosto solido. Allora, qua posso conversare con questo spirito che non si sa chi sia. Chi osa turbare il mio riposo eterno e evochi forze, bene al di là della tua comprensione, strega. Parla. Dora. Anima acidiosa. Chi osa turbare il mio riposo eterno è... Ok, è anima acidiosa. Principesa degli Inferi, meli noi. E siamo noi. Strega, mi passo adatto nel contesto. Infestazione più che dignitosa. Dora. Ma devo scappare. Molto da fare. Dileguati dunque. Ok, questo dovrebbe essere l'hub dove poi potremo accedere alle nuove... ai mercanti, credo. Confida. Va bene. Dove si va? Di qua. Il croce via. Ok, si può conversare anche con questo, no? Ecco, ti viene avanti. Chi è? Ecco a te. Strega del croce via. Il tempo ci ha forzato la mano, meli noi. Non ci aspettavamo che battessi il nemico la scorsa notte. E di luna nuova per di più. Ma hai ottenuto qualcosa di grande importanza. Non ho la tua pazienza verso i miei fallimenti, maestra Icate. Il titano è ancora in vita. L'Olimpo in fiamme e io di nuovo al punto di partenza. Cos'è che hai ottenuto? Permette una conseguenza di quello che ha fatto Adels nel Paimon. Non lo so, però. Sei qui per parlarne. Hai sanato nel corpo, se non nello spirito. Non hai fallito, bensì solo iniziato, così da poter apprendere e rafforzarti a compiere la tua missione. Morte a Carono. Il calderone è ancora sporco. Il nostro altare può tornarti utile. Ok. Allora, prepara. Lo stanno purificando. Ok, questo si sbloccherà andando avanti. Parlava dell'altare. Ma dov'è l'altare? Lo segui. Strega Odisseo. Dimmi che ho ucciso quel bastardo. No. Niente Odisseo, niente. Ce la farei la prossima volta. Dobbiamo uccidere Carono, quindi sappiamo che abbiamo questo. Lì c'è qualcuno. Vedete qua, stiamo facendo conoscenza di tutti. Questo chi è? Chi è che dorme qua? Scusate che non ho letto chi era. Vabbè, quindi lui lo dovremmo destare. No, non voglio andare di qua. Voglio continuare a esplorare qui e vedere cosa c'è. Qui. Nemesi. Sbattuto contro il muro. Ok, praticamente loro sanno benissimo che io sono morto. Morta. E quindi mi dicono, sei morta? Lo so, ma vabbè. Allora, niente. Non c'è più nient'altro qua. Lì c'è qualcuno che dorme che si sbloccherà, perché poi la base si sblocca andando avanti. Questo è l'altare. Medita. Ok. Abbiamo. La mia tuta dice, mi ha prestato degli arcani. Ok, abbiamo questo. Mentre in canale di letto abilità. Omega. Tutto l'alienta per due secondi. Carica. Ah, posso sbloccarlo. Spendendo dieci. No, spendendo una cenere. E se mi sblocca le altre. Figlio ribelle, ripristina due all'uscita di una zona. Bellino questo. Se non hai più del 30, mi piace. Lo compro. Cenere dieci, ma non ne ho dieci adesso. Ne ho sei. Posso prendere figi più venti. Ok. E le ho praticamente finite. Bene. Ah, ok. Qua si comprono solo questi. Ok. Va bene. E quindi qui, ispeziono. Lame sorelle. Ah, ok. Posso scegliere. Scetto stregato. Mi cambia notevolmente il gameplay. Infatti vedete che le lame sorelle che, tra l'altro, dice che è rossa, vuol dire che l'ho selezionata. Attacchi speciali. Ypsilon. Tiene premuto per un colpo più potente. Consuma il mana. Quel mana, quel pentacolo lì. Tiene premuto per un colpo più potente. Ok. No. Lo scetto lo stregato. Attacco. Primario. Secondario. Tengo premuto. Mobilità Omega. Carica. Attacco con X. Ah, ok. Prendo questo. Non posso. Ah, non ne ho abbastanza. Argento. Ok. Lo scetto stregato ce l'ho già. E le lame sorelle che non ho mi serve un argento, ma non ce l'ho. Quindi qua ci sarà un voto di cosa sbloccare. E questo cosa vuole? Hai perso una battaglia, ma questa è una guerra? Franciulla. Hai mille battaglie ancora inanza te. Ok. Ah, ok. Missioni. Colpisce ripetutamente Skelemeo. 20 colpi. Questo è il colpo veloce, quello rapido. Ok, è il tutorial praticamente. Scatto, premiamo, tiene premuto per correre. Ok. Tiene premuto questo per fare l'attacco. Va bene, bene. Tengo premuto, rilascio. Faccio questo. E tiene premuto B per gremiere e distruggere. Ok. Bene. Bella. Mi dai un'arma? No? Non è il caso. Vabbè, lo abbattiamo allora. Ok. Niente, quando si può prendere altro, quindi tornerò. Ok. Listo? Ok. Simpatico. Allora. Questo. Vabbè. Vabbè, morte a crono. Farò se che cada. Nessuno è più preparato. Ok. Oltre le brume delle brume dell'erebo dovrebbe esserci un passaggio verso il basso. Per rischio troppo a passare per i campi elisi e anche a rimanere. Ok. Quindi interessante come cosa. Non si può andare di qua. Emergi. Sigillo stregato. Si può andare di qua. E qua praticamente inizia una nuova avventura. Quindi ricominciamo quello che abbiamo fatto prima. Ci viene dato il primo emblema. Ma il gioco va avanti nelle prime run, nei primi tentativi, aggiungendo nuove feature, nuovi incantesimi, nuove varianti. Surgiranno i nemici. Vediamo che cosa fanno se veramente li sorgiranno. Tieni per un tornì per chiamare i nemici. È infatti bellissima. Guardate che ho già perso vita, ma... Ok. E qua posso procedere nuovamente. Poi nei bivi vado a scegliere le risorse che io ho intenzione di farmare perché... Adesso... Ok. Bellissima. Ho perso un botto di vita, però. Adesso esploderà facendoli morire praticamente tutti, credo. Venite qui. Ok. Questo è andato. Infatti vedete che adesso appena elimino questi. Se non ne arrivano altri vinco la mia... Cenere. Perfetto. E qua si può scegliere. No, non si può scegliere. C'è solo questo. Però c'è qualcosa da raccogliere qui. Risorse. Ok. Si va avanti. E indubbiamente si può diventare potenti, però è comunque skill del giocatore based il gioco. Quindi diciamo che se siete inadatti a un gameplay di questo tipo è finita. Ok, prendo anche questo. Io ovviamente adesso posso andare a prendere uno o l'altro, ma sono praticamente morto. Però dovrei avere il bonus che mi genera, infatti, credo l'abbia fatto, due di vita ogni volta che entro in una zona nuova. Quindi ho dieci, dovrei, se arrivo così alla prossima, dovrei avere più due. Mi pare di aver preso quell'abilità lì, però non mi ricordo. Ming e Johnny sono morto! Morto, morto ancora una volta. E niente, si torna. Non si ferma il tempo. Torniamo di là di nuovo e ovviamente ci rincuoreranno di nuovo. Devi tentare, devi tentare, devi tentare. E abbiamo preso quella cenere lì, che magari era quella che ci mancava per un potenziamento che ci serviva. Quindi possiamo tornare là nuovamente e andiamo avanti. Niente, questo è un gioco che si presta tantissimo anche per le live, quando uscirà ovviamente. Abbiamo sbloccato il calderone. Quindi possiamo andare spendendo queste cose e andare ad ottenere... Praticamente facendo questo, con le tre moglie, darmi un aiuto. Questo è persuadere il mediatore nel rietro a palesarsi per scambiare le risorse. Oppure abbiamo arti della notte, che mi costa solo il fiorellino che ho appena preso adesso. Rivela l'aneside raccolta nella conca argentia locali per raccogliere e mi serve l'argento, quindi questo mi serve per forza. Ma non so poi come si concretizzerà a livello di gameplay questa cosa. Abbiamo un sortilegio, parlo con la tizia qui. Ok. Ti offri l'argento che possiede, ma se ti spingi oltre questa radura, cerca... Ok. Va bene. Ora potrò trovare più risorse e soprattutto scavare l'argento che era richiesto in alcune cose da sbloccare. Ragazzi, questo era il test di anteprima su AIDS 2. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ditemi anche, magari, se intendete acquistarlo quando uscirà in Early Access. Vi ricordo che probabilmente il gioco costerà meno quando sarai in Early Access rispetto a quando uscirà, ovviamente. Come è nella maggior parte dei casi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Vi saluto, vi ringrazio e vi mando un prossimo videogameplay. Alla prossima e ciao ciao.